Questa è una guida completa e non banale per nomadi digitali e remote workers che vogliono trasferirsi a vivere qui alle Canarie, a vivere in un posto dove c'è sempre caldo e mare tutto l'anno e ovviamente non sanno quale isola scegliere. Ti comprendo bene perché anche io quando mi sono trasferita qui a novembre 2021 avevo lo stesso dubbio. In quale sarà la città migliore, in quale isola poi mi dovrò stabilizzare? Sono tutte domande che sono dettate dalla paura di sbagliare, dalla paura di fare una scelta errata, di dover poi fare un passo indietro dopo qualche mese perché effettivamente poi non ci troviamo bene. E anche qui ti comprendo al 100% perché trasferirsi a 4.000 km da casa, anche se da fuori può sembrare una scelta di moda, una scelta che molti stanno facendo in questo momento, non è affatto facile. Sarebbe molto più facile trasferirsi a lavorare a Barcellona, a Londra, a Parigi o in altre città un po' più classiche in cui abbiamo tantissime possibilità, se vogliamo anche diverse, di poter svolgere un lavoro. Noi invece abbiamo scelto di prendere il nostro computer, prendere il nostro lavoro in digital, da domate digitale che ci siamo costruiti con tanta fatica dall'Italia e venire qui per avere una vita diversa e un futuro diverso. Per questo motivo all'interno di questo video voglio portare la mia esperienza, quella che è stata la mia esperienza sul post dopo aver viaggiato per tre mesi a domate digitale alle Canarie e poi dopo aver scelto come mia prima meta Fuerteventura per aiutare anche te a prendere la decisione più cosciente e andare ad attutire quanto più possibile ed eliminare quelli che sono gli sbagli, anche se ti anticipo che la possibilità di sbagliare comunque c'è. Se scegli questa vita è perché hai comunque uno spirito avventuriero e ti piace il viaggio, ti piace il rischio, ti piace comunque migliorare la tua vita, cambiarla in qualche modo e avvicinarti a degli stili, uno stile di vita che è un po' da sogno per te se vuoi essere in un posto dove c'è il sole e il caldo tutto l'anno. Il dubbio nasce spesso tra le persone che sono già venute sul posto e tra quelle che non sono ancora venute perché le Canarie sono un arcipelago e soprattutto la visione che abbiamo noi dall'Italia è un po' diversa rispetto a quella che è in realtà. Le Canarie sono sette isole, alcune più grandi, alcune un po' più piccoline e la distanza che c'è tra le varie isole è abbastanza grande rispetto a quanto si percepisce dalla mappa o dall'Italia. Pensa che l'isola più vicino è qui Lanzarote e Ferteventura, è vero che sono 30 minuti di traghetto ma se vivi un altro punto dell'isola ovviamente la distanza è molto più grande quindi in alcuni contesti il minimo che puoi fare è comunque un'ora, un'ora e mezza di traghetto tra un'isola e l'altra quindi non si tratta proprio di un'isola vicinissima che dice ok prendo una barchetta e mi sposto sono comunque viaggi abbastanza lunghi per esempio nel mio caso io vivo qui a Ferteventura che è al centro tra Lanzarote e Gran Canaria quello che posso fare ovviamente è andarmi a fare un giorno su un'isola piuttosto che un giorno su un'altra ma più per piacere oppure su da fare qualcosa di lavoro ma tendenzialmente non sono dei viaggi che io direi a cacchio faccio in maniera molto 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 tranquilla in una sola giornata come un po' dire non so spostarmi da Milano a Torino no sono comunque dei viaggi stancanti, sono comunque dei viaggi in cui prendiamo degli aliscavi, delle nave veloci poi c'è l'oceano insomma problemi di mare, tutto quello che puoi immaginare insomma da uno spostamento che comunque è abbastanza impegnativo considerando anche le connessioni aeree che comunque non sono scontate perché andare in aeroporto, prendere un aereo anche se sono 40 minuti di volo comunque impiega una certa quantità di tempo per questo l'isola su cui stare secondo me è un punto importante perché per quanto uno possa essere avventuriero gli piace viaggiare, per lavorare abbiamo bisogno di una certa stabilità e quindi dobbiamo avere la nostra base per poi spostarci nei weekend, fare viaggetti, ok questo va benissimo ma avere un solido punto in cui insomma mettere le radici e assicurarci che questa base ci permetta comunque di essere sereni tutti i giorni ed avere una vita che così come ce l'aspettavamo perché tanto vale poi restare insomma a casa nostra o tornare da dove siamo venuti spesso le persone entrano in confusione soprattutto quando vedono le canali da fuori perché secondo me partono dal presupposto sbagliato, cioè partono dal quale insomma scegliere invece che concentrarsi su due cose che sono fondamentali la prima cosa è cosa sto cercando che è quello che ho fatto anche io quando mi sono trasferita qui ok mente locale, quali sono i miei obiettivi, dove voglio andare a parare, perché sto facendo questo cambiamento questo è grosso e che cosa mi aspetto, quali sono le condizioni che effettivamente nel dia a dia come si dice qui, voglio andare a svolgere e voglio andare a creare all'interno della mia vita per esempio andiamo nei dettagli perché le persone pensano sempre all'obiettivo macro ah sì voglio migliorare la mia attività, voglio vivere vicino al mare, voglio avere una villa no ma quali sono le sensazioni, quali sono le cose che vorresti avere vicino a tutti i giorni qual è la tipologia di appartamento per esempio, casa che vorresti andare a trovare sul posto quindi si tratta proprio di andare a fare una lista se vogliamo molto da un lato razionale di obiettivi e motivazioni che ci stanno spingendo al trasferimento e dall'altro poi tutta una serie di sensazioni che sono un po' meno razionali se vogliamo che vogliamo andare a provare tutti i giorni e il mix di queste due cose corrisponde al cosa sto cercando sul posto perché se abbiamo un obiettivo chiaro, se sappiamo quello che stiamo cercando allora quando lo troveremo lo individueremo ma se siamo dei semplici nomadi che vanno in giro ad esplorare allora tendenzialmente qualsiasi posto può andare bene cioè a questo punto di consiglio scegli il meno caro secondo punto fondamentale è la conoscenza del posto anche qui è fondamentale venirsi a fare un giro prima del trasferimento perché se non hai una grande azienda che devi trasferire qui e quindi vai a trasferire la ragione sociale ma questo è un altro discorso e quindi lo fai per fini fiscali lo fai per tantissimi altri obiettivi se sei una persona prima di venire qui devi effettivamente vedere che cosa c'è intorno perché magari ti ritrovi in un contesto che non è quello che stavi cercando e decidi, opti per andare in un altro paese completamente o dici caspita io ho capito che vivere vicino al mare non fa per me per tutta una serie di condizioni oppure che vivo benissimo vicino al mare anche a Terracina uno può fare delle valutazioni e anche poi l'ansia e la scarsa capacità di prendere una decisione dipende anche dalla scarsa conoscenza più conosciamo e più siamo sicuri della nostra decisione semplicemente perché abbiamo visto con i nostri occhi quindi la prima cosa che consiglio di fare a tutti quanti è prendere almeno un mese di tempo in cui venite qui alle Canarie vi scegliete due tre posti e andare a comprendere quali sono i posti più papabili per te quelli più interessanti quelli che effettivamente possono essere più allineati e farti un giro semplicemente è molto molto banale ma è irrealistico pensare di venire qui sul posto con le vostre valigie, con le tue valigie, con quelle di chi ti accompagnerà se ti accompagnerà qualcuno e insediarsi avendo già la casa bella e pronta e avendo già tutto pronto bisogna andare a studiare, a sondare il terreno per prendere la decisione migliore questo è quello che abbatterà notevolmente i rischi io ormai sono qua a Fertamentura da tre anni perché? Perché conoscevo già le isole non avevo la curiosità di dire adesso vado a esplorare Tenerife e mi trasferisco lì no, conoscevo già Tenerife, tutta l'isola conoscevo già Gran Canaria ho conosciuto bene Lanzarote, ci ho vissuto per un mese e quindi sapevo, e anche Fortaventura ovviamente quindi sapevo quali erano le aspettative ho settato delle aspettative che fossero realistiche se vado a Fortaventura avrò questo ma non avrò quest'altro se vado alla Spalmas avrò quest'altro ma non avrò quest'altra cosa qual è prioritario per me? cos'è prioritario per me in questo momento? quali sono le mie esigenze? e che cosa voglio ottenere da questo trasferimento? in questo modo tre anni me li sono fatti in maniera molto molto tranquilla non mi sono pesati semplicemente perché anche il luogo mi ha aiutato a raggiungere i miei obiettivi perché li avevo chiari da prima perché sapevo che il luogo poteva effettivamente portarmi dove io volevo arrivare ma adesso partiamo da quello che è effettivamente il bisogno e facciamo un po' una checklist anche in base a quella che è la mia esperienza personale per farti capire quali sono le differenze tra le isole la differenza tra l'arcipitago perché le isole sono sette le principali sono due che sono soltanto Tenerife e Gran Canaria tutte le altre sono isole comunque minori quindi a questo punto uno deve scegliere qual è lo stile di vita che vuole vivere e poi sono tra l'altro anche spezzate in due da Gran Canaria che al centro da tutto il punto di vista proprio della chiamiamolo fisiologico il punto di vista paesaggistico delle isole quindi abbiamo la parte da Gran Canaria a Forteventura metà Gran Canaria a Forteventura a Lanzarote che sono isole più chiamiamole desertiche che hanno un paesaggio lunare proprio come sembra di stare sulla luna qui praticamente quindi pochi alberi, colore della terra rossa paesaggio molto molto vulcanico dune di sabbia che sembra il deserto del Sara Gran Canaria è un mix quindi è un mix di foresta, dune c'è un po' di tutto mentre andando da Tenerife l'altra parte delle isole Tenerife, la Palma, il Chiero e la Gomera invece sono delle isole che sono più verdi se vogliamo abituati a quello che siamo già abituati insomma in Italia quindi dipende anche un po' dallo stile paesaggistico io ti consiglio sempre di vedere testare il terreno per comprendere effettivamente come ti senti è molto importante comprendere come ti senti in un luogo quali sono le sensazioni che ti trasmette le vibrazioni delle persone cosa si mangia che stile di vita si vive questo lo vedi quando veramente arrivi sul posto e inizi qui ad esplorare a sondare con la tua passione per il viaggio ma quali sono quindi i differenti bisogni chiamiamoli un po' anche polarizzanti opposti che poi andrò a soddisfare qui nelle isole che però magari un posto ti può dare sull'isola e un altro posto no primo se vuoi uno stile di vita attivo o uno stile di vita più isolato che cosa significa questo? stile di vita attivo significa che ci sono delle città identiche a quelle che siamo abituati insomma in Italia che sono Santa Cruz de Tenerife e Las Palmas de Gran Canaria sono quelle più classiche insomma in cui uno può vivere una vita da città molto simile a quello che si può aspettare insomma nelle nostre città italiane non le grandi città però comunque sono città abbastanza importanti come numero di abitanti come anche stile di vita come attività che puoi trovare dall'altro lato invece c'è la vita diciamo un po' più isolata se vogliamo la vita da hippie che si può trovare ad esempio in isole come Lanzarote Forteventura che sono un po' più pensate ad esempio per quello stile di vita vivo in una caravana vivo vicino al mare magari vivo in un paesino molto molto piccolo questo non significa che non lo puoi trovare anche a Tenerife o a Gran Canaria questo stile di vita semplicemente che qui ci sono meno persone quindi è molto più facile viverlo è molto più facile trovare un paesino piccolino in cui stanziarsi oppure fare una vita anche se vogliamo proprio già più da nomade vivere il surf vivere questo stile un po' da surfista selvaggio se così vogliamo chiamarlo un secondo fattore da tenere molto in conto in considerazione qui alle Canarie è se vuoi un luogo dove ci sono molti turisti o se vuoi un luogo in cui ci sono pochi turisti anche qui per esempio a Forteventura se vai al nord a Corralejo troverai una grandissima percentuale di turisti e anche all'estremo sud turisti italiani al nord turisti inglesi e tedeschi principalmente al sud mentre al centro è più una isola di locals quindi anche qui in quale parte dell'isola vai dipende se trovi più turisti o meno turisti più persone nel posto comunque più persone che vengono da fuori mentre la Spalmas l'isola di Gran Canaria invece abbiamo la Spalmas al nord che è un po' multietnica se vogliamo mentre al sud è un po' più turistico anche questo diciamo è un po' più un villaggio turistico quindi dipende anche da te che vibe stai cercando se vuoi mischiarti al turista e sentirti sempre in vacanza oppure se cerchi un equilibrio terzo aspetto da tenere in considerazione è anche tutta la parte climatica perché sì le isole sono vicino all'equatore sono lontanissime dall'Italia sono vicino all'Africa ma in realtà il clima non è identico in tutte le isole e anche in tutte le parti delle isole per esempio tendenzialmente Forteventura e Lanzarote fa un pochino più caldo rispetto alla Spalmas o Tenerife che sono Gran Canaria e Tenerife che sono invece un po' più fresche però dipende anche dalle località per esempio nord di Forteventura quindi Corralejo è più fresco tendenzialmente che il sud la Spalmas di Gran Canaria quindi il nord di Gran Canaria è più fresco rispetto al sud in cui fa veramente caldissimo tutto l'anno 30-35 gradi mentre alla Spalmas per esempio a Luglio il cielo è un po' più nuvoloso si sta molto molto più freschi e stessa cosa stessa differenza l'hai tra il nord di Tenerife e il sud di Tenerife quindi costa a Deje la playa la famosa playa della Samerica se tutta quella zona lì parte sud che è molto più caldo molto più turistico rispetto alla parte nord che invece è una città più normale è un po' più fresco anzi se vai nei paesi nell'entroterra le trovi anche tendenzialmente nuvolose per gran parte dell'anno quindi per chi vuole il fresco per chi sta cercando un clima più mite insomma ci sono comunque delle città che si prestano meglio a questa tipologia di stile di vita e altra tipologia di fattore da tenere in conto è se vuoi una vita da città o se vuoi una vita sportiva ovviamente se vuoi una vita da vera città la Spalmas di Gran Canaria e Santa Cruz di Tenerife sono le uniche vere due città secondo il mio punto di vista in cui è una vita un po' più attiva in cui ci sono le cose che abbiamo nella città lo stesso stile di vita tipologia di servizi mentre poi tutte le altre città o sono se ne vedi grandi sono abbastanza turistiche quindi c'è abbondanza sono grandi perché c'è tanto turismo c'è tante persone che vengono da fuori o sono dei villaggetti piccoli sono abitati da locals quindi tendenzialmente se vuoi vivere questo stile di piccolo paesino va bene ma se vuoi vivere lo stile della città non sono poi così adatte a questo effettivamente stile di vita mentre poi ci sono altre località dove ad esempio qui a Fortaventura e a Lanzarote sono perfette per chi vuole soprattutto qui a Fortaventura è pazzesco per chi vuole vivere una vita molto molto sportiva soprattutto sport d'acqua come il surf kite surf wind surf o anche tutta la parte di trekking scalate se vi piace questo stile di vita molto molto sportivo bicicletta andare in bicicletta è veramente pazzesco perché insomma tutto il territorio tutte le isole tutta quest'isola e anche poi anche in parte a Lanzarote si prestano moltissimo a tutta questa diciamo vita attiva lato sport come poi avevo detto anche prima le isole sono suddivise proprio per territorio quindi devi pensare anche tu se hai in mente hai voglia di stanziarti in un territorio che è tendenzialmente un po' più secco oppure un territorio che è un po' più verde se cercherai foto di Forteventura Tenerife o Gran Canaria o anche Lanzarote vedrai tendenzialmente dalle cartoline questa differenza netta Forteventura ha delle spiagge pazzesche blu sterminate azzurro dei colori veramente meravigliosi anche la terra un colore pazzesco come anche Lanzarote però sono un po' più secche cioè non troverai alberi se la vedi dall'alto è veramente un paesaggio impressionante è un paesaggio lunare mentre andando più su Tenerife o su Gran Canaria o se poi andare nell'altra parte dell'Arcipelago che sono parte fanno parte le isole più piccole quindi andiamo su Lagomera la Palma eccetera queste sono isole più verdi e somigliano un po' non so alle Cinque Terre alla Costiera Amalfitana sono un po' questo stile qui ovviamente andando a calarlo in uno stile canario ecco ora non non ci andiamo insomma ad immaginare qualcosa che non è effettivamente la realtà primo punto che mi sono segnata è considera anche quanto sono rilevanti per te le connessioni con altri paesi e considera che le connessioni parlo ovviamente di connessioni aeree perché è il modo l'unico quasi l'unico modo per spostarsi se non arrivare in Spagna con la nave è importante comprendere che le connessioni sono anche stagionali quindi se sei interessato a una connessione aerea quindi voli aerei con determinate città italiane potrebbero esserci oggi e non esserci domani quindi fai anche un check con i voli aerei quanto sono frequenti se ovviamente la tua è una città principale quindi se vivi su Roma e Milano tendenzialmente ci sono voli sempre li ho sempre visti a Trania a questa parte ma per altre città come potrebbe essere il volo Napoli Fortaventura per esempio c'è stato per un periodo era un volo stagionale c'è stato per un periodo poi dopo è stato eliminato perché ovviamente sono a volte sono solo mete turistiche per un periodo i voli diretti perché magari fanno degli accordi perché magari sono interessati a portare una certa tipologia di turismo quindi anche qui considera quanto per te è prioritario raggiungere l'Italia immagino ma anche altre città perché per esempio se per lavoro devi spostarti in altre città allora può diventare interessante andare a considerare non so se c'è il volo diretto per Parigi se c'è il volo diretto per Londra o se c'è il volo diretto per qualsiasi altra città che per te può essere interessante perché ricordiamoci che qui gli spostamenti sono comunque lunghi da qui Fortaventura a Barcellona a Tenerife a Barcellona sono più o meno tre ore di aereo quindi se non c'è il volo diretto la prima cosa che dobbiamo fare è andare a Barcellona o su Madrid e poi dopo spostarci quindi spostarci poi diventa comunque un dispendio di tempo dobbiamo considerare un certo tempo per spostarci perché ecco effettivamente le distanze sono molto lunghe consiglio finale che ti do è che in base a questa guida fai le tue ricerche online guardati le foto leggi nei forum ma soprattutto scegli due mete che per te possono essere interessanti da visitare da andare a sondare una volta che hai capito effettivamente cosa stai cercando qui sul posto cioè quindi aver fatto una panoramica di quello che è il tuo bisogno cosa voglio effettivamente nella mia vita in questo momento perché sto andando lì scegli due mete vieni qui e stai per almeno dieci giorni in un solo posto perché dieci giorni ti aiutano già a metterti nell'ottica del local e non viverlo con l'hype del turista perché una cosa è vivere il luogo come il turista con l'hype del turista un'altra cosa invece totalmente diversa è viverla come una persona del posto quindi mettiti in quest'ottica di diventare e di essere un local ma soprattutto non pensare che è tutto bianco o tutto nero cioè non pensare mi trasferisco qui dalla sera alla mattina no valuta con molta attenzione quello che è il cambio che stai facendo e pensa anche di venire qui per alcuni mesi senza aver ancora fatto un trasferimento ufficiale per poi fare le tue valutazioni che è esattamente quello che ho fatto anche io quando effettivamente mi sono trasferita qui sotto a questo video ti metterò una serie di risorse che man mano insomma mi verranno consigliate oppure che scoprirò e per tutte le tue domande ti aspetto nei commenti che scoprirò